108 giorni fa si giocava la finale della summer cup della gott league qualcuno direbbe benvenuti nelle tenebre noi invece diciamo benvenuti nel paradiso decolliamo con la winter qualifier gott league buonasera da amatoshi e da buonasera dal pancio ragazzi sospiro per moscardelli parte con il mancino il bosca ma che ha fatto l'uomo dalla barba dell'eroe che era una cosa attenzione parte cross in mezzo sergio crus non riesce a rinviarla poi sta keeper decisivo poi moscardelli pensa ancora la conclusione rientra sul destro grande giocata traversa traversa fichera cross basso sul primo palo l'abbiamo appena detto e forse mamma mia a fare di più nardone ma la conclusione di cruz pereira finisce in rete 2 a 0 per il redlock bugiardo risultato guarda come si muove occhia poppy a pane proprio lui risultato bugiardo il ragazzo del molise vediamo il fichera lato corto dell'area di gore il fichera ne salta 3 un miracolo a sergio crus salta ancora e la ruota per la fucina con il pallone dentro se lo sono dimenticati frattini frattini il video frattini proprio lui frattini la sua scelta è totalmente un uno contro uno uno shot out l'abe maia ancora nardone e questo è calcio di rigore che polla vale va mette a sedere in stacchi non deve essere una passeggiata da lì l'hai preso attenzione parte la porta l'arciere dei redlock mamma mia attenzione però perché gioca la carta la carta del bomber moscardelli la carta del bomber giocano quindi si segna moscardelli il gol vale 2 vediamo sergio crus se ha capito che deve darla moscardelli si la conoscardelli ci ha messo 35 secondi sopra di 4 gol sei in 2 in meno e questo è il regolamento attenzione e questo è un gran gol salmaso andrea salmaso la salamandra io sogno il 2 contro 2 con l'unità allora hanno votato ragazzi vince lo shot out sergio cruz parte sergio cruz contro nardone nardone sergio cruz l'amera che la mette lì l'abbe maia vabbè vabbè mamma mia ancora l'abbe maia che esulta così le ali vp della cucina finisce qui quindi questo match l'abbiamo